Siano lodati, Gesù, e Maria. Cari fratelli e sorelle, San Giovanni Ed, in questa nuova riflessione, paragona il cuore di Maria Santissima al cielo di Dio, di cui quello che sorride azzurro sopra di noi è solo una lontana immagine. Così, infatti, egli scrive, il cuore di Maria è veramente un cielo, di cui quello che sorride azzurro sul nostro capo non è se non l'ombra e la figura. È un cielo che si eleva sopra tutti i cieli. È quello del quale lo Spirito Santo parla quando dice che il Salvatore del mondo è uscito da un cielo che supera tutti i cieli per la sua eccellenza, per venire ad operare in terra alla salvezza dell'universo. Difatti, questa madre ammirabile ebbe il Salvatore in cuore prima di concepirlo nel suo seno. Dopo essere stato nascosto qualche tempo in questo stesso cuore, come lo è stato da tutta l'eternità in quello del Padre, Gesù ne è uscito per manifestarsi agli uomini. Ma come è uscito dal cielo e dal seno del Padre, pur senza uscirne, così il cuore di sua madre è un cielo dal quale egli uscì in modo però da dimorarvi sempre ed eternamente. Il cielo è per eccellenza l'opera delle mani di Dio, ma il cuore della Divina Madre è il capolavoro unico dell'onnipotenza, della saggezza e della bontà infinita di Dio. Dio ha fatto il cielo specialmente per stabilirvi la sua dimora. È vero che egli ha riempito cielo e terra della sua divinità, ma più in cielo che sulla terra egli ha stabilito la pienezza della sua grandezza, potenza e magnificenza divina. Così si può dire in verità che il cuore di Maria è il vero cielo della Santissima Trinità, un cielo tutto fuoco e fiamma perché è sempre acceso di un amore tutto celeste, più ardente, più santo che non tutto l'amore insieme dei serafini e dei più grandi santi. Il cuore di Maria è il cielo dei cieli, il quale non è fatto che è per Dio solo, perché è la preziosa eredità e la doviziosa parte del Signore che l'ha sempre posseduto perfettamente. È il cielo dei cieli perché, secondo San Bernardo, esso contiene in sé tutta la Chiesa, che la scrittura definisce Regno dei Cieli, e perché tutti i figli della Chiesa ricevano per mezzo suo la vita della grazia. Chi oserà smentire San Bernardino da Siena quando assicura che la Vergine porta tutti i suoi figli nel suo cuore come ottima madre? E chi mi vorrà contraddire, si affermo in conseguenza, che ella porterà in eterno tutti gli abitanti del cielo nel suo stesso cuore, vero paradiso per tutti gli eletti, tutto ripieno di gioie e di delizie per essi, a causa dell'amore inconcepibile di cui questo cuore acceso riguardo a ciascuno di loro? Dopo questa bellissima riflessione, cari fratelli e sorelle, San Giovanni ed così si rivolge alla Madonna. «O Santa Madre di Dio, la vostra carità senza limiti ha talmente dilatato il vostro cuore materno che esso risulta quasi una vasta città, meglio, un cielo immenso, tutto consolazione ineffabile, gioia inenarrabile per i vostri amati figli, dei quali sarà dimora per tutta l'eternità. O cielo più elevato, più grande, più vasto di tutti i cieli, che porta in secco lui che i cieli non bastano a contenere. O cielo più ripieno di lodi, di gloria, d'amore per Dio, che non il cielo mirabile che forma il soggiorno degli eletti. O cielo in cui il re dei cieli regna più perfettamente che non in tutti gli altri cieli. O cielo nel quale la Santissima Trinità fa la sua dimora più degnamente e vi opera cose più grandi che non nel cielo impireo. O cielo in cui la Divina Misericordia ha stabilito il suo trono ed è posto tutti i suoi tesori per dare udienza a tutti i miserabili in tutte le loro necessità. Andiamo con confidenza a presentarci dinanzi a questo trono di grazia e di misericordia per ottenere dal benignissimo fra tutti i cuori le grazie che ci occorrono per riuscire graditi a sua divina maestà. Cari fratelli e sorelle, per trovare anche noi protezione in tutti i travagli e gli affanni della vita, rifugiamoci anche noi in questo cielo che è Maria Santissima. Rifugiamoci nel suo cuore immacolato e chiediamo a lei la grazia di vivere per il cielo, di pensare maggiormente al cielo, di desiderarlo con tutto il nostro cuore. Quando la Madonna ci stringe al suo cuore, ci eleva al cielo. E ora, come al solito, terminiamo con la preghiera. Ricordati, o Pissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia chiesto il tuo soccorso e sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, Vergine delle Vergini, a te vengo, dinanzi a te mi prostro, peccatore pentito. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami, benevola, ed esaudiscimi. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.